Quanti applausi! Oh bene, 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 bene. Adesso eseguiamo un pezzo nostro, il primo pezzo che abbiamo scritto. E che dottore, ma a me se faccio un'altra regola. E parla un po' delle schifezze che ci sono in giro, no? Questa merda che ci gira intorno. E io parlo con il giro. Che ci avvolge di continuo, che non riusciamo a levarcela dai piedi. Questo schifo di mondo. Questa romezza. Basta. Un super applauso al nostro bassista. E' un bassista, no? Perché chi è il bassista, eh? Oh! Sette per farle. Va bene, no, niente. Oh! Quando volete? Vogliamo. Fatto, eh? Guarda che lui batte, eh? Non ti dice tanto, ma va. E' un bel metro, non pulito. Vai, vai, vai. E' un bel palacchè. Vai. Non mi piace qui. Ehi. Non l'è. Ma un po' di calma. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti